Assessore Paolucci, quella di ieri è stata una giornata storica per la Regione Abruzzo. Dopo sette anni siamo usciti definitivamente dal commissariamento. Certamente una giornata straordinaria a compimento di un lavoro che è datato appunto sette anni e che ha consentito alla Regione Abruzzo di verificare tutte le adempienze connesse al commissariamento. I risultati sono stati davvero straordinari. Siamo usciti con una serie di adempienze che sono gravide di buone notizie per l'Abruzzo. Intanto abbiamo raggiunto per la prima volta nella storia di questa Regione la piena adempienza sui livelli essenziali di assistenza, quindi gli obiettivi di salute, la qualità e la quantità del servizio erogato. In secondo luogo e connesso a questo sono stati apprezzati molti degli adempimenti e dei provvedimenti portati avanti, al di là di qualche strumentalizzazione anche di troppo. Nostrane è stato particolarmente apprezzato alla messa in sicurezza del percorso nascita e in ragione della rete di emergenza urgenza, del miglioramento della offerta territoriale e della prevenzione degli screening oncologici, l'Abruzzo si è visto riconoscere 70 milioni di euro di premialità per le adempienze cosiddette 2012 dal punto di vista tecnico, ma altresì ha avuto la possibilità di poter avere dal Ministero della Salute buone notizie sia in ordine la costruzione di nuovi ospedali, firmeremo tra breve il nuovo accordo di programma per la costruzione dei 5 nuovi ospedali, sia le risorse 12 milioni di euro per la certificazione dei bilanci che consentiranno un enorme risparmio per le tasche dei cittadini e soprattutto in relazione al Fondo Sanitario Regionale.